Da domani avrà inizio per la Turris un nuovo campionato. Serve infatti lasciarsi alle spalle settimane di delusioni, con un digiuno di vittorie che si trascina ormai da fin troppo tempo. Nel 2021 i Corallini non hanno mai vinto, vedendosi avvicinarsi pericolosamente la zona play-out. La società, dal canto suo, ha provato a dare la scossa con l'esonero di Franco Fabiano ed il conseguente ingaggio di Bruno Caneo. L'ex Rieti esordirà allo stadio Americo Liguori nell'erbi campano contro la Casertana, in programma del pomeriggio di domani alle ore 17.30. La classifica per la squadra ospite si presenta più agevole, con 33 punti che valgono al momento il decimo posto in classifica. Da riscattare la sconfitta casalinga incassata contro l'Avelino per 2-0, ma i Corallini necessitano di una vittoria che sarebbe boccata ad ossigeno in vista del tour de force finale. Allo stadio di Torre del Greco si affronteranno le due peggiori difese del girone, fattore che non esclude una gara vincente e ricca di reti. A dirigere l'incontro sarà il signor Daniele De Tommaso della sezione di Rimini, al debutto stagionale nel girone C, supportato dagli assistenti Porchedu e Collu e dal quarto uomo Angelo Tomasi. Intanto è di ieri l'ufficialità dell'acquisto di Alexandru Boiciu, contrattualizzato fino al 30 giugno 2021 con opzioni per le due successive stagioni. Classe 97 in Moldavo già da qualche giorno si era aggregato al gruppo ed è stato valutato anche dal neotecnico Caneo. Possibile anche una convocazione per il match di domani, nel quale non farà parte di Nunzio, espulso nell'ultimo match. Vedremo dunque se il cambio di guida tecnica produrrà i benefici e se la squadra riuscirà a dare delle risposte sul piano del gioco e del carattere. Vero punto di forza della Turis prima della crisi.